Siamo in chiusura, allora vi ricordo che su Rai 1 dopo la mezzanotte andrà in onda il programma Francesco, il frate Piccolino, filo conduttore il messaggio di pace, amore e fratellanza, portato in tutto il mondo da circa 15.000 frati minori. Insieme ad alcuni documenti filmati verranno proposte anche testimonianze come quella di frate Eligio Gelmini, fondatore della comunità Mondo X per il recupero dei tossicodipendenti e l'assistenza ai malati di AIDS. Presenti anche alcuni personaggi dello spettacolo, da Roberto Vecchioni a Simone Izzo e Enrici Tognazzi. Francesco, il frate Piccolino, è stato realizzato nel restaurato Auditorium Antoniano di Roma.